Si entra in una dinamica che poco ha a che fare con l'intelligenza, ma molto con il risentimento. Il risentimento è quello che poi ti porta a dire adesso i bambini li tengo io, li cresco io, tu non servi. Tu puoi crescere un figlio da solo, ma perché? Ah, i motivi è che tu sei fatto così, stai lavorando principalmente contro i miei figli, che probabilmente preferirebbero avere un padre che se te casca il bicchiere dice che sei fatto, piuttosto che non avere nessuno che non ti dice niente, molto spesso i giudici e avvocati stanno dando il potere in mano a una persona sola.